Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e nello specifico dell'emergenza incendi. È stata quella di ieri una giornata terribile per la Sicilia messa in ginocchio da diversi roghi praticamente in quasi tutte le province dell'isola. Purtroppo ci sono state anche delle vittime ma facciamo un bilancio di quanto avvenuto nelle ultime ore nel nostro servizio. È stata una giornata drammatica per la Sicilia devastata dagli incendi in diverse province. Ore di angoscia, di estenuante lavoro, di assoluta incertezza. Ingenti danni, pesanti disagi, purtroppo anche vittime. Due settantenni sono stati trovati carbonizzati in un'abitazione avvolta dalle fiamme a Cinisi nel Palermitano vicino all'aeroporto Falcone Borsellino mentre una donna di 88 anni è deceduta a San Martino delle Scale sempre in provincia di Palermo perché il fuoco ha impedito ai soccorritori di aiutarla. Due forestali sono finiti in ospedale con gravi ustioni rimediate mentre prestavano soccorsi e sono migliaia gli sfollati e le persone costrette a lasciare le proprie case per paura dei roghi che alimentati da un vento caldissimo hanno minacciato diverse zone abitate, colline e parchi. Incendi praticamente ovunque, alcune strade e autostrade sono rimaste chiuse per ore con centinaia di automobilisti intrappolati nei mezzi con temperature altissime. Alcuni paesi sono rimasti isolati, al buio e senza acqua. L'aria irrespirabile per gran parte della giornata con il cielo invaso da fumo e una pioggia di cenere. La situazione ha messo a dura prova vigili del fuoco, forestali, protezione civile e forze dell'ordine. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha chiesto aiuto alla protezione civile nazionale che ha inviato squadre di supporto sollecitando al contempo il governo Meloni a dichiarare lo stato di emergenza. Le fiamme, alimentate dal vento di Scirocco, hanno devastato le montagne che circondano Palermo, San Martino delle Scale, Monte Pellegrino, la riserva di Capogallo e il Monte Pizzosella che domina le borgate marinare di Mondello e Sferracavallo. L'aeroporto Falcone-Borsellino è rimasto chiuso per ore. Un'intera concessionaria a Isola delle Femmine è stata distrutta dalle fiamme, decine di auto sono diventate carcasse annerite. Le fiamme hanno lambito e minacciato anche il Tempio di Segesta nel Trapanese, il punto di ristoro e la zona souvenir del parco archeologico sono andati in fumo, molti turisti sono fuggiti dal villaggio di Calampiso a San Vitolo Capo, avvolto da un grosso rogo e sono stati soccorsi con dei gommoni privati e poi portati in salvo dalle motovedette della Capitaneria di Porto. A Santo Stefano di Camastra, nel Messinese, diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Ore di angoscia anche a Oliveri e Patti con le fiamme che hanno minacciato anche il santuario di Tindari. A Pantelleria, come in altre aree della Sicilia, sono entrati in azione canader ed elicotteri. A Ustica, aliscafie e traghetti sono rimasti in porto per il mare grosso. A Dacicatena, nel Catanese, nella frazione di San Nicolò, è andata in fiamme una vasta area a verde. Il rogo ha coinvolto una villetta, distrutto palme e minacciato una scuola. Sgomberate alcune case per precauzione e anche alcuni B&B con turisti scesi in strada impauriti. Incendi e roghi anche in altri centri della provincia di Catania, Calatabbiano, Mascali, devastata anche la splendida Pineta di Nicolosi. A Taormina, il fuoco ha bruciato l'area dove doveva sorgere un campo da golf a ridosso del centro abitato di Trappitello. A Siracusa, sgomberate case e hotel. Questa dunque è la situazione. Ovviamente vi terremo aggiornati nel corso delle nostre edizioni di Spazio Notizia, nel caso ci fossero degli aggiornamenti su questa terribile vicenda, questa emergenza incendi. Cambiamo intanto argomento. Notizia dalla trapanese controlli dei carabinieri tra Marsala e Mazzara del Vallo, dove sono stati scoperti diversi lavoratori in nero e irregolari. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Trapani, in servizio congiunto con i militari dei comandi stazione di Marsala e Mazzara del Vallo, hanno eseguito dei controlli ad alcune attività commerciali operanti nel settore dei pubblici esercizi volti a contrastare il fenomeno del lavoro nero. I controlli effettuati si sono concentrati sulle attività di ristorazione nelle località balneari della provincia e hanno visto sottoporre ad accertamenti ben sette attività tra ristoranti e pizzerie. Preoccupanti i risultati riscontrati dai carabinieri, ben 14 lavoratori in nero e 5 irregolari su 52 presenti. Oltre alle sanzioni, pari a 55 mila euro, sono stati disposti i relativi provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale volti a garantire il ripristino delle condizioni contrattuali con i lavoratori non regolarmente assunti previsti dalla vigente normativa in materia di occupazione. Tali controlli continueranno nei prossimi giorni su tutto il territorio della provincia. Ancora cronaca con una notizia dal Siracusano. I carabinieri di noto hanno arrestato un uomo di 38 anni del luogo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto in contrada a Cavalata, ad Avola, è intervenuta una gazzella dei carabinieri e la 38enne alla guida del veicolo, improvvisamente e inspiegabilmente, si è scagliato contro i militari dell'arma, proferendo al loro indirizzo frasi offensive e colpendoli con pugni, spinte e morsi. L'uomo, pertanto, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria di Siracusa. Il grande caldo, come abbiamo visto, sta creando molti problemi, sia chiaramente per la salute soprattutto delle persone più fragili, ma anche per gli incendi alimentati proprio dalle alte temperature. Grande caldo che sta creando seri problemi anche ai vigneti, molti dei quali sono stati danneggiati e si stima una perdita del 40%. Vediamo il servizio. Questa ondata di caldo anomalo ha determinato una situazione drammatica. Al momento prevediamo una perdita di produzione di circa il 40%. Lo dice Giuseppe Bursi, presidente delle cantine Sette Soli di Menfi. Sette Soli è una delle eccellenze agroalimentari della Sicilia nel mondo, con 2.000 soci conferitori che su 6.000 ettari di terreno coltivano l'uva in quello che è stato definito il più grande vigneto d'Europa, producendo ogni anno 20 milioni di bottiglie che vengono esportate in 45 paesi. I nostri produttori, aggiunge Bursi, erano già stati colpiti a fine giugno dalla peronospora, tuttavia pensavamo di avere limitato i danni. Poi le successive condizioni meteorologiche, quelle che continuano anche oggi, hanno alterato in maniera sostanziale la situazione di partenza. Praticamente molte uve hanno subito un blocco della maturazione, ci sono uve quasi cotte, acini che non riusciranno più a maturare e una situazione piuttosto grave, aggiunge il presidente di Sette Soli. Il sindaco di Menfi, Vito Clemente, ha richiesto alla regione siciliana il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Confidiamo nel fatto che i governi di Roma e di Palermo intervengano con aiuti diretti nei confronti degli agricoltori che naturalmente devono essere sostenuti, conclude Giuseppe Bursi. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di calcio e nello specifico della Palermo che continua la preparazione in vista dell'inizio del campionato di Serie B. Tanti protagonisti stanno parlando, stanno rilasciando dichiarazioni ai canali ufficiali del club Rosanero. Stavolta ad esempio ha parlato il difensore Mateio che ha caricato l'ambiente in vista appunto dell'importante campionato di Serie B che vedrà il Palermo protagonista. E allora sentiamo le parole del calciatore Rosanero. Ho superato i miei problemi, però ora non sento più dolori, dolori in passato, quindi ora sono pronto a allenare, quindi per ora sto bene e sono pronto. Il mio primo anno in Palermo l'ho trovato veramente bene, perché secondo me è una città molto bella, pure la squadra è grandissima, quindi io e mia moglie l'ho trovato a Palermo veramente bene, quindi sono molto contento. Sono qua e non posso vedere ora per il prossimo anno. rispetto dell'anno scorso dobbiamo fare, non dobbiamo perdere punti a casa, perché a casa dobbiamo sempre vincere, perché a casa per noi giochiamo 12, quindi questo è il primo cosa dobbiamo fare. In questi giorni è arrivato qua a tanti calciatori, anche con tanta esperienza, quindi sappiamo tutti che questo campionato è lungo, allora servono qua tutti i calciatori tipo questi con grande esperienza, perché veramente Serie B non è un campionato facile, quindi serviamo tutti questi calciatori. Dobbiamo essere competitivi per andare in Serie A, perché sappiamo tutti contro noi, volevo fare il massimo, perché contro Palermo è per tutti uno giorno grandissimo, quindi noi dobbiamo lasciare sempre al campo il massimo e questo è importante. Passato un anno quando è arrivato a Citigroup, secondo me siamo tutti contenti perché abbiamo dietro una grande società con una grande esperienza, quindi siamo qua una grande famiglia, secondo me non vediamo ora quando arriviamo a Palermo e iniziamo lì nel nuovo centro sportivo. I nostri tifosi sono migliori, quando giochiamo a casa giochiamo 12 e per noi quando giochiamo al stadio Barbera è sempre emozionato perché questo stadio ha qualcosa di speciale. Lucio Di Mauro ci parla invece del premio Angelo Musco. Si chiude il sipario sulla diciassettesima edizione del premio Angelo Musco organizzata da Mimì Scalia, direttrice artistica, che ha condotto l'evento insieme a Mario Incudine. Premio alla carriera a Mario Venuti, premio alla sicilianità a Caballà, premio alla cultura a Leonardo Lodato. Novità di quest'anno il premio Corti Teatrali, omaggio ad Angelo Musco. Straordinario è il momento letterario a cura di Grazia Calanna. Come l'anno scorso i giurati hanno scelto l'attore, l'attrice protagonista, la regia, tutte le varie categorie e poi invece il miglior spettacolo anche quest'anno è sempre il gradimento del pubblico. E poi ho fatto una cosa mia particolare, un sogno che avevo da tanti anni. Ho fatto per adesso soltanto tre workshop teatrali, sono iscritti tutti dei bambini di Milo, abbiamo fatto tre corti e stasera verrà premiato quello che la giuria ha considerato il corto migliore. E quelli sono i miei bambini, i miei ragazzi li chiamo. Mi fa piacere che hai inserito anche i giovani, i ragazzi, i bambini perché sono loro il nostro futuro. Senti, al solito c'è anche incudine. Ormai io e Mario, e io dico che è una primula rossa perché per cercarlo e trovarlo e telefonarci è un macello con tutte le cose che fa, però poi ci siamo riusciti lo stesso e siamo qua insieme. Senti, per chiudere, a chi dedichi questa edizione del premio Angelo Bosco? Comunque sempre a Franco Battiato, perché comunque lui per Milo è stato fondamentale. Mario Venuti, intanto ben trovato a Milo, premio alla carriera. C'è peso, ha un peso tutto questo. In effetti poi gli anni si sono accumulati. Diciamo che nel 2024 io faccio 40 anni di carriera, dal primo disco di De De Novo dell'84, Niente Inzetti su Guilma, anche se avevamo cominciato già ben prima, l'esordio del Festival Rock di Bologna è del 1982. Quindi sono anche... gli anni sono passati. Senti, tu sei un artista eclettico, cerchi sempre di rinnovarti anche musicalmente, però vedo che non segui proprio la moda musicale, tu sei proprio il parcotto tuo. No, diciamo le volte in cui magari mi diverto a... non dico a fare il verso, un po' un misto, fare il verso e anche un po' un tributo, omaggio eccetera, poi alla fine faccio una cosa completamente diversa. Quindi anche quando, tra virgolette, cerco un po' di seguire la moda, la faccio in un modo tutto mio, personale, per cui insomma non sono proprio capace di stare al passo con le mode. L'Italia, la Sicilia, Catania, ha sete di cultura, Leonardo? Sì, sicuramente. Tra l'altro la Sicilia è una fucina di grandi nomi, di grandi autori, di grandi personaggi, come Angelo Musco a cui è dedicato questo premio, ma non possiamo non parlare di Pierandello e di tanti altri personaggi che hanno fatto la storia del teatro, del cinema, della cultura, della letteratura in generale in Sicilia, verga, insomma, come dimenticardi. Quindi essere parte di questo Parterre des Rois credo che sia veramente una cosa che ci dovrebbe riempire di orgoglio e che dovrebbe portare la Sicilia in alto, in auge, in tutto il mondo. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.